Ciao a tutti amici, benvenuti in cose di oggi, abbiamo un sacco di novità, un sacco di bellezze, la bellezza fatta a persona Allora praticamente passiamo subito con... ieri sera abbiamo visto Pechino Express è finito Narcos da un giorno e ritorniamo in Columbia Sì, è simpatica, diciamo che il gioco in sé fa cagare, se lo facevano a Vicenza, chi se ne frega Dovevamo correre, fare l'autostop, però si tratta di Columbia, adesso noi siamo tutti colombiani Allora siamo banditos, matare tutos, totos, todos, matare dodos Allora praticamente siamo anche alle porte del Grande Fratello VIP Ma secondo me Grande Fratello VIP ovviamente lo guarderemo in ogni suo dettaglio Retroscena piccante, tutto vogliamo vedere, di Alfonso Signorini cosa ci dirà Però alla fine sì ci saranno litigi, pensa te c'è Valeria Marini quindi E' già il sinonimo di litigio no? Però e sarà correlato lì alla casa e questo e quest'altro Invece quello là che deve andare in giro in Columbia Poi partono dalla Columbia e vanno fino in Messico Praticamente fanno un pezzo del giro che ha fatto Formaggino in Vernizi Ce lo ricorderemo, il ciclista che doveva fare il giro del mondo Praticamente dopo che Formaggino è passato in quei posti lì Per cui ha avuto anche un episodio un po' poco sfortunato Che gli hanno detto Dammi tutti i soldi o ti uccido Classico con questo accento colombiano Allora dare dodosado matatono Così E però lui è scappato Sappiate che dalla Columbia ad arrivare tipo Nicaragua Così non si può Perché proprio hanno interrotto la strada che collega la Columbia C'è la Columbia Poi sopra c'è l'Equador Mi sembra Insomma Non è che puoi andare da Panama Prendi la strada Vai e arrivi Guidi Vai dritto insomma Se devi passare dall'Equador No c'è proprio la strada interrotta Quindi Probabilmente lì dovranno prendere un aereo Insomma Dovremo fare lo stop con l'aereo Fatto sta che Il gioco in sé fa cagare Perché due palli devono sempre prendere l'autostop Fatto sta che Io mi immagino però la sicurezza che ci sia Vabbè che c'è la telecamera Allora magari non si crossano Però Passano anche in dei posti un po' scarsi Vabbè Ovviamente come uno straniero dice Ma se vado in Sicilia mi sparano No Però Il rischio c'è Il rischio c'è Poi se vai americano Se te vai in Sicilia E Ti uccidono Ti agressano Te la sei cercata E mi spiace Spiace Te la sei cercata Dovevi stare a randare al Grand Canyon In quei posti là Te la sei cercata Se te vai a Napoli Con Rolex Il Petit Philippe Patè E la Porsche De Cabrio Te la sei cercata Secondo me Adesso ritornando sempre al discorso Di quella lì Che la zanzara ci ha fatto due parole Così così È andata a Napoli E l'hanno scippata subito Beh diciamo che magari lei Non è che sapeva Te la sei cercata Allora scusa Secondo me non sei cercata Perché Vabbè che c'è origini italiane Ma per lei magari Napoli Come andare a Venezia A Roma A New York Se vai a New York Centro Tu al limite anche a Darwin Con uno Rolex E una Porsche Ti scippano No Se vai Adesso voglio dire Ma se te devi andare a Los Angeles Nel quartiere cubano Povero Ma se ma te non sai queste cose Te vai a casa No Poi io non penso che questa qui È arrivata a Napoli E si è andata a infilare un vicolo Sminchiolato In qualche quartiere strano No Quindi secondo me Non se l'è cercata Se doveva essere informata Insomma Non se l'è cercata Basta Non se l'è cercata Basta Di difendere l'indifendibile Io sono qui da 30 anni Ritorniamo al discorso nostro Allora Ma a Pechino Express Io vorrei immaginarmi un po' la sicurezza Perché ci sarà sicuramente Dietro la telecamera Un bodyguard Un qualcosa Perché lì Secondo me c'è gente Che anche Tipo Ti grapino Non c'è Problem Poi uno dice Che sono stato a Bogotà No Perché loro vanno da Bogotà Adesso sappiamo A parte Darkos Che un po' sapevamo Il cartello dei Cali Deve morire Morire Classica parola Spagnola Cartello dei Cali Los Castagnos Basas Los Castagno Cioè a Fidel Castagno Che poi era anche Un militante No? Molto bravo Los Castagno Uccideremo tutti Perché sì Uccidere Anche uccidere Classica parola Perché anche lì A Pechino Express Nessuno sa lo spagnolo E Allora Tutto Dicono Tutto lo parlano Come parlo io Adesso No? Scusi Non è che uno Deve sapere Tutte le lingue del mondo Se non la sai Non lo sai Ale Tutte le fanno Fatto sa che Allora Devono andare a Medellin Passeranno da Medellin Molto bello Ho visto il Cali Perché dice Il cartello di Cali Ah Ma perché Cali è una città Io pensavo Il cartello della California No Non pensavo Dalla California Stare nel casino Però Non avevo capito Che Cali Era una città Io pensavo Boh Non lo so Perché lo chiamano così Magari è un'abbraviazione Comunque Ci sarà un po' di sicurezza Di Benché Cioè Secondo me Neanche lo spepe Savrebbero Il coraggio Di rapire Tina Cipollari Pensa che roba Tina Cipollari Rapita Ma io ho fame Datevi un sandwich Al prosciutto Al formaggio Allo stracchino E giù commenti Giù commenti Eh lo spepe Si sono sciolti Google Ultima puntata Narcos Secondo me Teoricamente Non Magari Narcos Non è finito Adesso Non ho guardato Non ho googolato Perché Narcos in sé Non è vuol dire Parole giugare Narcos Ci sono anche adesso Quindi Secondo me Potrebbe continuare La serie Magari Anche spostarsi Dalla Colombia Potrebbero fare Il Messico Potrebbero Insomma Tutto Tutto Sud America Ci sono Narcos Potrebbero fare Un pizza Connection Potrebbero fare Un sacco di cose Anche in Cile Anzi Tra l'altro Adesso il Cile Mi pare O il Perù È il massimo Sportatore Di Cocaina Del Mondo Io pensavo A Colombe No Ciccetto Scendi dal podio Adesso c'è Olcino Di più Uno dei due Me li confondo Sempre Hai capito Quindi Secondo me Quella serie Continua Però Devono trovare Un personaggio Secondo me Anzi Il personaggio Lo dico Il Ciappo Così Il Ciappo E il Ciappo Diventerà Anche quello Un idolo Perché Finora Diciamo È un malvivente Cattivo Invece Se gli fanno Vedere La moglie La figlia Sorella La nonna Allora Quanto era bravo Quanto era bravo Quanto era simpatico E basta Cos'è quanto Voltiamo pagina Passiamo Sta arrivando Una Maserati Maserati L'ho visto Uno stracasino A Miami Anche perché C'è Tipo Molte Molte Che le vendono Però A Jacksonville Mai Però oggi L'ho visto Uno Allora Vediamo Problemi Di casa Allora Ho finito Il mio Giardino Bellissimo Diciamo Sopra La segretura Rossa Che secondo me Il contrasto Va bene Perché io volevo Una cosa Contrastata E mi piace Rosso Bianco Verde La bandiera Italiana La bandiera Del Messico Bellissima Bellissima No Allora Quando torse Vedere il fuoco Tutti Messicanos Matar Olè Questa è la bandiera Del Messico È Bianca Verde Rossa Olè Allora Però Hai dei pezzettoni Grossi Comunque Lo lascio lì Voglio proprio Spingelo bene E poi ci facciamo Una corata Di cemento Armato No Voglio comprare Delle pietruzze Per metterlo Negli spazi Ho già visto Le pietre Non costano tanto Ho visto C'è il Tofu Il tufo C'è il tufo Rosso Che secondo me Non sarebbe male Il tufo rosso Così si Combaccia Con quella Segatura rossa Che ho messo Oppure pietre Tipo marmore Bianche Oppure ce ne sono Gialline Comunque ci guarderò Adesso lo lascio Così Perché poi il colore Va via Dopo un po' Col sole Quindi Non ci guarderò Pazza soldi Poi devo portare La macchina Dal meccanico Che non ho mai Fatto un tagliando A sta macchina Non me l'avete detto Vabbè Io l'ho portata Al meccanico L'olio Ho cambiato I freni Ho cambiato Un sacco di cose Però sinceramente Non sono mai andato Per fare Sti tune up Detti Allora Il tune up Non lo voglio fare Perché vogliono Almeno 1000-2000 dollari Perché tune up Vuol dire Che ti controllano Tutto Guardano la cinghia Guardano i freni Guardano questo Guardano quello Ti fanno un listo Beh se mi vanno solo Il listone Si può anche fare Il fatto sta Che io so Che devo cambiare Le sospensioni Rinforzate Dietro Perché Me l'ha detto Un altro meccanico E io gli ho detto Pensa a te Per te Però No L'altro Il meccanico Non mi è piaciuto Perché mi ha tirato fuori Un sacco di problemi Poi Ah Doveva cambiare Doveva girare le ruote No L'avevo già raccontato Perché quando vai A cambiare l'olio Gli dici Girami anche le ruote Così Si consumano Equalmente No Lui Toglie la ruota E la buca No Aspetta Mi chiama La ruota esplosa Eh Ma esplosa come? Cioè È impossibile che una ruota esploda Poi in queste circostanze Non era neanche Uno dice Era tutta liscia Non era liscia Comunque Gli ho detto Rimetti La nuova No È esplosa Bisogna Ma ha fatto comprare Due ruote nuove Per un danno Che aveva fatto lui Quindi io da quello Non ci vado più Tiè E non ci vado neanche più Al 7-11 Il gas station Vicino a casa mia Perché sono andato Con una schedina Della lotteria E io Secondo me pensavo Di aver vinto Avevo beccato Due numeri Che Ne becchi uno Sono Due dollari Ne becchi due Sono quattro dollari Ma non ero sicuro Non avevo voglia Di controllare Allora se te glielo dai A loro Loro hanno la macchinetta Lo controllano Ha detto Anzi hai vinto E mi ha dato un dollaro Hai vinto un dollaro Io ho guardato nel sento Minimo è Due o quattro Ho fatto stare Che mi hai rubato i soldi Io da te non becco più Merdoso Anzi Gli ho messo anche La recensione negativa E chi di dovere Quando la vedrà Quella lì È una delle infrazioni Classiche Che ti fanno perdere La licenza Del business Quella lì sicuramente L'avranno licenziato Adesso Basta Giù non ci ritornerò E vabbè Perché lì per lì Non me ne sono ancora Poi non ce l'avevo voglia Di ritornare Poi non so Non lo so Perché mi ricordo Sulla NBC Facendo proprio Perché Sti giochetti Che te Molta gente Fa proprio Come ho fatto io Per vedere Cioè Lo fanno Perché non Non sanno controllare Io non ce l'avevo voglia Poi Sapevo che non avevo Vinto 50.000 dollari Ho detto Guardavolo te Sarà al massimo 2 o 4 dollari Però Alla NBC Facevano così Mandavano degli agenti segreti E chi non lo facevano Chiamavano subito La polizia E la polizia Ti toglie la licenza Di vendere Le lotterie Ed è Uno dei primari Fonti di reddito Di quei Cosi lì Perché dalla benzina Non guadagnano niente Ti guadagnano da lì E quando te lo tolgono Arrivano in fregato Ole Giustizia E E poi ti arrestano anche Per favore Giustizia E Giustizia Mas Fat Come si dice In spagnolo Con accento Colombiano Però eh Io comunque Io gli accenti Non li sento Marta tutta a dire E allora Questo accento Colombiano Questo messicano Ma per me Sono tutti uguali Per me Spagnolo Di Spagna No È uscito Eus È uscito Dalla corrida Per me Parlano tutti Come Marisol 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 Che film è Che film è Che film è Che film è Nada 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 Niente Ma è possibile Che io trovi un locale Dove pulire e lavarse Italia Nada Che film è Che film è Comunque adesso Adesso aspettiamo Di vedere Questo Grande fratello Vi Vedremo delle belle Per chi Forse All'estero Lo so Che non vedete L'ora Di vedervi Pechino Espresso Anche voi Tina Cipollari C'è C'è L'ori del santo Che è stata già eliminata Ma forse La ripigliano Sapete che Dal sito ufficiale Dalla Rai Non si riesce Perché Loro Vedono l'IP E vedono che Non sei in Italia Però vi potete Scaricare L'estensione Per Chrome Che si chiama Ola Ola VPN Che Vi cambia l'IP Italiano E benché Mi ha dato Un po' di problemi All'inizio Alla fine Trova Un server Che funziona Io ho guardato Tutta la puntata Di due ore Tutta è Di fila Tutta cipollata E senza problemi Quindi Vedete Molto bello Poi Netflix Ho iniziato a vedere Stranger Things Ma non mi piace Roba di UFO Su Netflix Ho visto Che adesso Ci sono un sacco Di programmi Anche doppiati In italiano Però sono proprio Cioè Sono proprio Mi piace sentire La centro Americano Tipo c'è Winona Ryder In quello Però se Secondo me Cioè Quando lo metto In italiano Io posso capirlo Anche se non sto Lì a sentire Invece se lo metti In inglese Devi stare attento Insomma Non sono arrivato Ancora in quella fase Proprio Extreme Che Anche Sovra pensiero Capisci tutto Pensa a te Dopo 57 anni Ancora Non ho Che praticamente Tipo Stai Vedevo un film In inglese Lo capisci Se stai lì A sentirlo Se invece Stai giocando Tipo Le parole incrociate Lo senti Di Sovra pensiero Non lo capisci Allora L'ho messo in italiano Però non mi piace In italiano Ci devo pensare Ci devo pensare Ciao a tutti